Impossibile costruire in questa posizione, mio signore. Palestre armate! Sì, signore. Come possiamo aiutarvi? Mio signore? Genieri al vostro servizio. Le nostre truppe sono state attaccate. Sire, servono altre reclute, Sire. Mio signore? Nel tuo nome! Raggiungo la posizione. Dicci cosa fare. Come desideri. Ravolciamoli! Seguite il mio vessillo. Vorresti disfarti di noi. Cosa ci aspetta? Posizione assegnata. Finalmente! Mio signore, cosa desiderate? Qual è il piano? Brumenti pronti. Subito! Al vostro servizio! Diteci cosa fare. Sì, signore. Hai la mia fedeltà. Signore! Vostra grazia quando si lavora. Ottima mossa, signore. Sire. Signore? Armi in spalla! Pronti, signore! In marcia! In posizione! Ci muoviamo. Mio signore. Dicci cosa fare. La spada di Parsifal è al vostro servizio. Ottima mossa, signore. Cosa ci aspetta? Vanno al vostro servizio. Signore. Siamo qui! Attenti! Come possiamo aiutare? In sella. Ottima mossa, signore. Le nostre truppe sono state attaccate. Ingegneri al vostro servizio. Cosa desiderate? In partenza. Sire! Controllare le armi! Siete sicuro, Sire? Vostra altezza! Cosa vuoi che facciamo? Tranquilli, veniamo in pace! Subito! Cosa? Sì? Ottima mossa, signore. Balestre armate! Qual è il piano? Siamo pronti? Sì, mio signore. Le nostre vite ti appartengono. Come desideri. È nostro dovere. I mazieri sono i migliori! Al galoppo! Bronare i cavalli! In battaglia! Cavalcate con Sir Parsifal! Cavalcare con onore! Nel tuo nome! Massacriamo quei codardi! Dove sono le teste da spaccare? Muovetevi, grandi raggiosi! Dove dobbiamo combattere? Brumenti pronti! Genieri in movimento! Mio signore! Sir! Al vostro servizio! Sì, signore. Diteci cosa fare. Ottimo mossa, signore. Tutto secondo i piani. Finalmente! Vostra grazia. Andiamo! Raggiungo la posizione. Pronte più che mai! Le nostre truppe sono state attaccate! Sì, signore. Signore! Cosa vuoi che facciamo? Mio signore. Posizione assegnata. Subito. Andiamo in battaglia. Quando si lavora. In marcia. Armi in spalla! Si muoviamo. In partenza. Genieri in movimento. Pronti, signore. Sì, signore. Tutto secondo i piani. Signore? Andiamo! In posizione! Raggiungo la posizione. Come possiamo aiutarvi. Siamo qui! Ottima mossa, signore. Ravolgiamoli! È nostro dovere. Dicci cosa fare. Nel tuo nome. Genieri al vostro servizio. Sì, signore. Sì, signore. Posizione assegnata. Subito. Cosa desiderate? Alze pronte! I cavalieri sono pronti. Le nostre vite ti appartengono. Mio signore. Sire. Sire. Sono morti. Qual è il mio? Sire! Le nostre truppe sono state attaccate. Brumenti pronti. In marcia. Ti muoviamo. Mio signore. Controllare le armi! Palestre armate! Sire. Finalmente! In partenza. Dicci cosa fare. Ai posti di battaglia. Ci prendiamo una vacanza. Signore! Ottima mossa, signore. Armi in spalla! Genieri in movimento. Cosa c'è a spendere? Sì, signore. Abbiamo vinto, Sire. Al vostro servizio. mutta. Sire. 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 Tô tinta.